Questo grovio di impalcature, tra cataste di travi e laterizzi, diventerà il villaggio della cultura e della scienza. Siamo a Sassari, in via Duca degli Abruzzi. L'ex mattatoio ha rischiato la demolizione, ma avrà invece un futuro prestigioso. In un complesso di 15 edifici, dal febbraio 2009 è in corso un intervento di restauro conservativo. Il progetto, elaborato dalla Soprintendenza e Beni Culturali, su iniziativa del Comune, punta a realizzare un polo d'attrazione culturale. Un luogo aperto anche a qualsiasi attività ricreativa. Si stanno realizzando, tra l'altro, un laboratorio di scenografia per l'Accademia delle Belle Arti, un auditorium con 400 posti e uno spazio per spettacoli all'aperto. Il complesso è concepito in modo da conservare il luogo così com'è quello di un ex mattatoio di fine 800. Tutto quello che si è conservato fino ad oggi sarà mantenuto, dalle configurazioni spaziali fino ai più piccoli dettagli, le mangiatoie, gli anelli che legavano gli animali. Il centro è pensato non solo per gli studenti delle istituzioni accademiche vicine, ma per l'intera comunità. Sarà un polo di attrazione importante, probabilmente di livello regionale. Il finanziamento di 5.880.000 euro è in gran parte a carico della Regione. Il Comune assicura che entro un anno i lavori di restauro saranno terminati. Rimane l'incognita degli arredi. È difficile prevedere quando il villaggio potrà essere popolato.